Allora, che cos'è? La mafia è stata corrotta, è stata corrotta dalla finanza, la mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell'acido, la mafia aveva una sua morale, chiamiamola una sua morale, non c'è più niente, è stata corrotta da dentro, dalla finanza, dai soldi, dalle multinazionali, dagli affari, e dov'è oggi? Cos'è oggi un'associazione a delinquere? Ditemi che cos'è un'associazione a delinquere, sciolto un comune per l'associazione a delinquere, da chi è formata l'associazione a delinquere? Chi c'è? Quello con l'unghia o Torino la ingoiatica, l'unghia lunga che dice la menga della menga della menga? Ancora queste cose, pensate? Che cos'è oggi un'associazione a delinquere? Da chi è formata l'associazione a delinquere? Ve lo dico io, da un uomo d'affari, oggi tra un uomo d'affari e un mafioso non c'è quasi nessuna differenza, l'unica differenza, l'unica differenza tra che il mafioso sa che è fuori legge, mentre l'imprenditore, il grande uomo d'affari si assolve perché è dentro il sistema che gli permette quelle cose lì. Chi c'è dentro questa associazione? Un uomo d'affari, un politico, un banchiere, un notaio, un commercialista, un poliziotto e un magistrato, a volte non c'è neanche il delinquente nell'associazione a delinquere.